La musica romana degli Stornelli, appunto che stasera proverò a fare i miei Stornelli. Me chiamo Pino, c'ho i garzoni di Lino, me chiamo Lino, c'ho i garzoni di Pino, me chiamo Doni, di chi so i garzoni, me chiamo Mattia, i garzoni su e mia. Che è successo in sostanza? Me chiamo Ennio, so di un altro millennio, me chiamo Alessia, so di un'altra galassia, me chiamo Razio, io vengo da Ospazio, me chiamo Clemente, io non vengo per niente. Me chiamo Yuri, faccio lavori duri, mi chiamo Charlotte, io lavoro di notte, mi chiamo Sasà, c'ho un c***o da fare. Me chiamo Raimondo, c'ho il c***o rotondo, me chiamo Renato, io c'ho il c***o quadrato, me chiamo Bramante, io c'ho il c***o pesante, me chiamo Otto, ho vinto il superenalotto. Grazie. Bravo! Io mi sono fatta grasse risate, bravo. Grazie. Beh, molto divertente, mi viene voglia di mangiare un cacio peppe. Hai capito? Ma senti una cosa, ma tu riusciresti a farlo così, anche con i nostri nomi? Ma diciamo che lo stornello di per sé è improvvisazione, per cui ci si può provare. Anche perché per esempio tu hai un nome semplice, Frank. Anche Matano finisce con... Mi chiamo Gio, te cucino un gâteau, io so Federica, la ricetta all'antica. Io sono Frank, facciamoci un Frank. Io sono Mara. Ma facci una carbonara. Io la propongo come sigla del programma. Votiamo. Per me sì. Per me è un grande sì, bravo. Grazie. Per me sì. Per me sì. Anche per me sì. Sono quattro sì! Bravo! Enrico, ne hai fatta a bracciare! Avevi baffi come Vittorio Emanuele? Dai Enrico, sei stato bravissimo. Grazie. Ciao. Sono una ricetta all'antica? No, io non sono una ricetta all'antica. Ricetta all'antica. Ti posso dire una cosa? Mi vorrei sentire più musica. Mi diverto tantissimo.